Siamo a Bagnara, dopo la partita bagnarese-villese, un'intervista al direttore sportivo della Villese. Direttore, come ha visto questa partita? Niente, come l'ho vista? Questa è la terza partita, usciamo dal campo con i complimenti, bella partita, facciamo il gioco noi con tutto il rispetto delle altre squadre, tutta attenzione a vincere il campionato, però ancora questa squadra che ci ha messo sotto non l'abbiamo incontrata e adesso sono quattro partite e zero punto. Non sto qui più a parlare degli arbitri perché secondo me quest'anno stiamo toccando loro il fondo. Oggi abbiamo assistito all'ennesima ma all'ennesima dimostrazione che sono dei ragazzi che purtroppo non sono la colpa loro ma la colpa sicuramente è di chi li manda. Persone non preparate, solo quelli, non preparate. Persone che non sanno neanche le regole del calcio. Quindi sono stanco di perdere, voglio dire, partite, contropartite per questi ragazzini di turno che poi dimettono anche, non ti danno spiegazioni con arroganza e tutto.